Rieti Rieti Demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni, la qualità al tuo servizio. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. Invia Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone, I'm the one! Paci Auto 4 Una storia di passione e innovazione. Scopri le nostre filiali di Rieti, Terni, Orvieto, L'Aquila e visita il sito www.paciauto4.com Eccoci, la rana nel pozzo. Bentornati. Come state? Spero tutto bene. Stiamo avvicinando alla Santa Pasqua e dopo vi darò gli auguri. Vi vedo subito, ma anche in chiusura. Ci siamo visti nella puntata di lunedì, Pillole di Sport. Una puntata che ha segnato un po' gli ultimi tempi sportivi e non solo. Ha segnato l'informazione dello sport reatino. Un applauso ancora una volta da Sver Antonetti che ha confezionato una puntata veramente di livello e incluso la prima parte con il vescovo Piccinonna che è venuto a trovarci. Piccinonna che notoriamente non va da nessuna parte, però ha accettato il nostro invito e noi siamo stati molto molto felici. Se ne è parlato molto di questa puntata sportiva, ne parleremo anche oggi e non perdo tempo e vi presento subito l'ospite di oggi che è Alberto Paolucci. Buongiorno a voi, buongiorno direttore. Come sta? Come sta? Bene direttore, bene. Bene. E' un po' di tempo che ci vediamo. Un po' di tempo, sì, un po' di tempo, un po' di tempo, però ci siamo rivisti. Sì, sì, è importante. Quello è importante. Segretario generale Will di Rieti e della Sabina Romana, ho detto bene? Benissimo. Allora, Will, come sta la Will? Beh, la Will credo che sta bene. È viva, vegeta, si fa notare. Anche se in queste vicende purtroppo siamo super impegnati, siamo impegnati per le molteplici iniziative che si stanno portando avanti sia a livello nazionale con lo sciopero che è stato fatto a dicembre, con le iniziative che ci saranno adesso, una l'11 aprile insieme alla GGL, il 20 aprile sempre insieme alla GGL. Quindi abbiamo fatto un'iniziativa a Firenze sulla sicurezza sul lavoro perché è stata preceduta da un'iniziativa che abbiamo fatto in solitaria a Piazza del Popolo, quindi una grandissima piazza del popolo dove sono state portate 1041 barre, 1041, cioè ha fatto un effetto shock proprio vedere quella piazza immensa con 1041 barre che sono state i morti sul lavoro nel 2023. Ecco, noi volevo dare un segnale alla politica, al governo perché tanti di questi morti non sono morti occasionali ma sono omicidi perché poi quando un imprenditore toglie un perno per far aumentare di velocità la macchina, per aumentare la produzione quella direttore non è certo una casualità ma è un omicidio e anche su questo noi abbiamo chiesto al governo che si instaurasse un omicidio sul lavoro perché se tu togli i perni che garantiscono la sicurezza non è più accettabile. Non è più accettabile, non è un caso, quindi noi con questa iniziativa che abbiamo fatto, sono tre anni che la Will sta gestendo la campagna Zero Smorti sul lavoro e dobbiamo dire che il segretario della CGL Landini ha riconosciuto in pieno questa iniziativa, l'ha sposata in pieno e quindi partecipa anche lui a questa iniziativa della sicurezza sul lavoro. Insomma non è più accettabile che ogni giorno muoiano tre o quattro persone sul posto di lavoro, questo non è più accettabile e vorremmo che ci fossero più ispettori, più controlli, le imprese che non garantiscono la sicurezza non gli debbano essere più dati appalti, non debbano essere più dati compensi, quindi voglio dire penalizzare quelle aziende che non rispettano la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Quell'immagine di Piazza del Popolo ha fatto il giro del mondo, quindi è stata, come ha detto lei, un effetto shock. Sì, è stato un effetto shock, anche per noi stessi che l'abbiamo organizzata, cioè vedere quella piazza immensa con 1041 bare, poi lì abbiamo anche invitato Stefano Massimi, il redatore della Sette, e quindi anche lui nella sua breve reazione ha detto che è stata una cosa sciocca e scioccante, che anche lui se ne parla spesso tutti i giorni di sera con formigli, praticamente ha devastato il suo animo, le cose. Vediamo un po' se sortisce e se sortirà qualche effetto nel governo. Una curiosità, lei ha detto insieme alla CGL, l'ha ripetuto due volte, non ha sentito CISL e neanche UGL che non si sente più ultimamente. No, diciamo che l'UGL con noi non ci sentiamo perché la tribice confederale è CGL, CISL e UIL. Però UGL se ne è parlato negli anni scorsi, non si sentono più come mai? La CISL un po' di tempo ha fatto altre scelte e quindi non ha partecipato con noi allo sciopero generale che abbiamo fatto il 15 dicembre, l'abbiamo fatto in solidare con la CGL, nonostante i motivi dello sciopero fossero stati quelli della piattaforma unitaria di CGL CISL e UIL. Questo a noi ci ha un po' rammaricato, ma le nostre iniziative, ripeto, presentate in una piattaforma unitaria, non ha voluto aderire, ma ormai sono troppi i casi in cui la CISL non aderisce. Sono un po' defilati, ma verranno allo sciopero dell'11? L'11 aprile non parteciperanno, lo sciopero dell'11 aprile è UIL e CGL, la manifestazione del 20 aprile sarà UIL e CGL, la manifestazione sulla sicurezza fatta alla Leopolda a Firenze venerdì scorso, UIL e CGL. Quindi si sta camminando su un binomio per portare avanti queste battaglie. Non è per caso, si parla dei rumors romani, lo sanno tutti, non è che vi sto dicendo una cosa nuova, il segretario generale pare che si possa candidare per una parte politica ben definita, non è che è questo il motivo? Io non so se questo è il motivo, questa è una cosa... Rumors l'ha sentito anche lei, abbiamo sentito tutti, Luigi Sbarra forse sarà candidato con forza di tutti. Ma il rumor dicono questo non lo sappiamo, ma certo a noi ci dispiace che comunque una grande confederazione stia fuori da quello che è la Trimice. Perché c'è bisogno anche, no? Sicuramente uniti siamo ancora più forti insomma. Va bene, ora ne parleremo un pochino più avanti. Lei l'ha vista la puntata di Pillole di Sport? Abbiamo parlato, torniamo qui a Rieti, di calcio, abbiamo lanciato piccolo sassettino. Io l'ho vista il direttore, gli devo fare i complimenti. Ah, grazie. Perché lei ha fatto una grande proposta, io sono stato anche nei tempi passati, sono stato uno sportivo come lei. Lei che è sportivo, lei che è sportivo. Sono stato un giocatore di Rebbi, ho anche presieduto dalla società per quattro anni, quindi voglio dire che un applauso io lo devo fare perché lei ha fatto una proposta secondo me eccezionale di unificare tutte quelle grandi società per un'unica grande società sportiva di calcio nel nostro territorio latino. Come io aspido che lo possa essere anche per i Rebbi che si stanno creando altre società, insomma non è il caso secondo il mio modesto parere, non è un caso. Io, già ai Rebbi ci vogliono 15 persone, 15 in panchina, 30 persone per una sola squadra, cioè farne addirittura tre a Rieti, insomma non ha senso. Un bacio è sì. Io ho un impegno di cercare di mettere insieme le varie anime come ha fatto lei con il calcio. Parte anche da qui questa proposta sul rugby che è uno sport spettacolare, no? Adesso è uno sport che va… Beh, l'ultimo sei nazioni. L'ultimo sei nazioni, fantastico, un'Italia fantastica. A Rieti è tutto diviso. Allora il mio concetto, lo spiego per i maestrini che scrivono le stupitaggini, no? È, siamo arrivati a questo punto, alziamo un pochino l'asticella, cerchiamo di fare un passo di lato, un passo indietro e cerchiamo di provare, quantomeno, ad unire. Non ci siamo riusciti fino a qualche tempo fa, secondo me questo è il motivo. Mi rendo anche conto che quando si alza l'asticella i mediocri, compresi quelli che scrivono, rimangono sotto. Ma questo non è un problema nostro, no? Dobbiamo fare il bene della città. Sicuramente sì, ripeto, lei ha avuto lo stesso mio pensiero per quanto riguarderebbe, quindi condivido in pieno e speriamo che anche da questa prestigiosa e autorevole emittente si recepisca questo messaggio, insomma. Va bene, va bene, fare una società forte e coesa in ambito, in qualsiasi sport, credo che sia la cosa migliore per il nostro territorio, per gli sportivi e per lo sport della sua interezza. Lo diciamo anche agli amici del rugby, venite qui a Riedi Life, ne parliamo insieme, facciamo una trasmissione speciale su questo sport. Porte aperte, mi piacerebbe farla anche sul basket, lì è un pochettino più complessa. Partiamo dal basket. Però partiamo intanto calcio, poi rugby, magari ci riusciamo e magari un giorno il sogno di Pietro Paoli ma anche il vostro di qualche anno fa, non erano i tempi ma potrebbero essere tra un po' di fare una tra virgolette polisportiva, però un'unione dello sport reatino. Beh, questo era un vecchio progetto quando io ero presidente. Forse non erano maturi i tempi. No, non erano maturi i tempi ma in quel periodo le società eravano uniche veramente e quindi sarebbe stato molto più semplice, più facile. Adesso bisogna prima riunire e poi eventualmente un secondo sport, però non bisogna mai disperare, bisogna sempre insistere perché queste sono delle buonissime idee. Quindi da portare avanti, da non tralasciare. Andiamo avanti, vediamo quello che succede. Sicuramente sì. Per i maestrini seguiteci anche voi perché avete da imparare molto. Antica pasta. Antica pasta. Che vogliamo dire? Beh, io guarda, in generale, direttore, posso dire che l'anno 2023 è stato un anno difficile. Molto. Difficile, incerto, per tutta l'economia reatina, per l'occupazione reatina. Il nostro pensiero come Wille è andato sinceramente a tutte quelle imprese tipo Antica pasta che ha chiuso i battenti, tipo l'IMR che sta in cassa integrazione da anni e non riescono a rintegrare le loro persone. C'è ancora la ferita di Gala, Ritel, SMD, gente che sta ancora fuori, sta in mobilità, in deroga. C'è il discorso della Reset che va alternativamente, per tre mesi non paga lo stipendio, poi li paga tutti insieme. Insomma, è stato uno scenario, uno scenario praticamente incerto e di crisi. Se noi pensiamo che nel 2023 sono stati attivati 6.000 posti di lavoro, su 6.000 posti di lavoro solo 900 sono andati a tempo indeterminato e gli altri posti sono stati tutti precari, con una media giovanile sotto i 12.000 euro, sotto i 30 anni, quindi il giovane sotto i 30 anni reatino è penalizzato, perché 12.000 euro è la media del reatino, mentre la media regionale è 18.000. Un bel gap è un bel afforbice, invece su tutti, oltre i giovani di 30 anni, la media è 17.680 e la media regionale è di 22.000 euro. Quindi qui c'è una forbice ben distante su quello che è, siamo la provincia meno pagata, siamo la provincia che ha più difficoltà, se noi pensiamo che prima della pandemia da 58.000 posti di lavoro siamo arrivati a 55.000, abbiamo perso 55.600, quasi 3.000 posti di lavoro. Quindi questo significa che se non c'è un investimento sul nostro territorio che cambi la tendenza su questo, noi continueremo a perdere posto, a perdere occupazione, perché poi è inutile che loro dicano noi abbiamo attivato tanti posti in più, quindi nel reatino non ci sono, ma vengono considerati lavoratori attivi anche chi lavora per un'ora, tu lavori per un'ora, ti chiamano, ti fanno un contratto di un'ora e ti chiamano cinque volte, sono cinque contratti, loro considerano cinque contratti occupati. C'è qualcosa che non mi torna, anche nei numeri che dà Giorgia Meloni, che ha detto che è stato un dicembre meraviglioso, un 2003 meraviglioso, ma infatti è questo che sto dicendo, non mi vale. No, no, assolutamente no, non sono questo, se uno conta anche le persone che lavorano un'ora e non solo una volta, se si ripetono per cinque o sei volte, sono cinque contratti attivi, cinque persone occupate, cioè c'è qualcosa che non va assolutamente, e quindi noi chiediamo alla politica di rivedere l'occupazione, perché poi chi determina un lavoro, chi determina il lavoro, è vero che va premiato le cose, però questo non si può fare sempre a scapito di chi lavora, perché chi lavora è penalizzato, è sottopagato e quindi c'è uno sfruttamento oggi, più che mai della classe lavoratrice, se poi noi prendiamo in considerazione le donne, le donne sono ancora più penalizzate, cioè questo scenario è uno scenario… Meloni non ha detto così, ha detto anzi che è aumentato il lavoro famiglia. No, ma i dati sono questi, non so se lei magari ci segue anche sui comunicati che noi pubblicano, quindi lanciamo sulla stampa le cose e noi abbiamo un rapporto con l'EUROS, quindi con l'Istituto di Statistica, una collaborazione, quindi non è che la UIL prendi questi dati e se li sogna, sono dati statistici per cui l'occupazione è nel reatino, ma io sento anche dalle altre parti quando facciamo le riunioni che non è così florido come qualcuno ci dica. Noi siamo direttori per la scuola pubblica e la sanità pubblica, questo voglio dire. Va bene, mi viene in mente una cosa adesso, sdrammatizziamo un po'. Speriamo che non vada tutto, continui lei. A carte 48. A carte 48. Un saluto ai maestrini che scrivono, maestrini. Allora, lei lo sa questo gioco come funziona, ci segue anche lei, no? Noi seguiamo lei, lei segue anche noi. Allora, 5 carte, 5 carte, scelga, scelga nel mazzo delle 48. Un abbraccio ai maestrini. Scrivono i maestrini per hobby, scrivono per hobby, ci vuole professionalità nella vita. Ecco le mie 5 carte. 5 carte, chi le gira? Le gira lei o le giro io? Come vuole. Le giro io. Va bene. Allora, Leonardo Tosti. No, Emiliano Grillotti. Materi, dopo lo sostituiamo. Michele Nicolai. Michele Nicolai. Daniele Sinibaldi, tutti di destra sono. No, ho fatto una battuta, però, Manuela Rinaldi, Manuela Rinaldi, c'è molta destra, diciamo, vabbè, che ci importa, vabbè, tanto ci conosciamo tutti, adesso devi dare un giudizio, mi raccomando su uno lo tratti bene, un giudizio che nessuno saprà, prego, lei deve vedere le carte, una per una, ci deve dare un aggettivo su ognuno, nessuno saprà, nessuno saprà, andiamo, Alberto Paolucci, che ci dice, il primo? Beh, sul primo, una persona impegnata cerca di fare, cerca di fare, ma credo che i risultati insomma, non sono buoni, non siano proprio eccellenti, va bene, io posso sbirciare? Non siano eccellenti, posso sbirciare solo io? Bene, andiamo avanti. Questa è una persona, ritengo una brava persona, una persona che si sta impegnando per il territorio, ma da solo, credo che non si può andare avanti. Non si può andare avanti. Bene, bene, andiamo avanti. Questo mi piace perché ha fatto una bella proposta che io la condivido assolutamente. Bravo questo, eh? Bravo, questo è bravo, questo è bravo. Andiamo avanti. Non condivido tante proposte che ha fatte questo signore perché, insomma, anche contro quello che era il futuro supermercato che doveva nascere... Non diamo troppe indicazioni se no... Non mi piace nascere allo zuccherificio, insomma, una situazione che non è... Sicuramente una persona impegnata, una persona valida, ma comunque col sindacato c'è poca pille perché... Poco a pille, eh? Sì, sì, a differenza della scorsa... degli anni passati, insomma, poca pille con il sindacato. Chiedo una deroga al nostro regista fantastico, Luciano Mani. Si senta libero. Si senta libero, bene. Allora, adesso il gioco è questo. Tre carte. Mi deve dare un aggettivo, possibilmente, di ognuno di tre, ma nessuno saprà mai. Lo sapremo solo io e lei. Altri tre? Primo. Ride. Ride, ride. Che diciamo di questa... Questa... Carta, di questa carta, di questa... Di questo personaggio. Una pinocchiata. Pinocchiata. Pinocchiata, bene. Quest'altra carta, quest'altra... Quest'altro personaggio. Questo... Un personaggio che... Eh... Eh... Cambiamo. Cambiamo. Altro personaggio, altra carta. Ha lasciato molto a desiderare. Molto a desiderare. Molto a desiderare. Per noi una... Parola d'onore, nessuno mai saprà. No. Di queste tre carte. Anzi, le mescoliamo e le mettiamo in mezzo. Torniamo a Rieti. Torniamo a Rieti. Sanità, nuovo pronto soccorso. Era stato anche promesso... Promesso, insomma, stava anche sul tavolo un nuovo ospedale. Ancora non sappiamo... Sappiamo... Un gran che c'è stata un'iniziativa recentemente. Che ne pensa? Siamo... No, penso che... Eh... Quando la... Qualche giorno fa è venuto... È venuto il presidente Rocco, col suo inturrage, no? Con tutti... Tutto l'apparato, anche... Anche comune a Eradino. C'erano tutti, praticamente. Tranne che il sindacato che c'è la rappresentanza dei lavoratori e quant'altro per inaugurare i nuovi spazi del pronto soccorso. Ma io credo che sia stata una cosa che non si doveva fare, che a noi non ci è piaciuta, perché la sanità è una sanità di tutti. Non si può escludere solo il sindacato su questo aspetto. E noi l'abbiamo fatto con un comunicato contestando quello che era questo operato del pronto soccorso. Poi, perché poi i problemi, magari, i problemi sono altri, no? Noi stiamo aspettando da anni, dal sisma del 2016, il nuovo ospedale, che pare lì il presidente Rocca a fine abbia detto che non ci sono i soldi o le cose per fare l'ospedale. Però il presidente Rocca deve ricordare, deve ricordarsi che noi siamo un territorio sismico, lo eravamo e lo siamo ancora. Per cui c'erano appostati i 76 milioni per la ristrutturazione che l'amministrazione regionale precedente, grazie all'impegno dell'onorevole Melilli, in qualità di commissione bilancia, avevano trovati. E praticamente noi come Will contestammo questa scelta di ristrutturare un ospedale di 60 anni, vecchio di 60 anni. Li facciamolo a quelle cifre, li facciamolo novole. Li facciamolo novole. Quindi era stata accettata questa proposta, erano stati valutati anche i calcoli che ci voleva 190 milioni. Sembrava all'inizio che questi soldi li dovessero mettere l'INAIL, cioè un ente pubblico finanziava l'ospedale, poi avrebbe dovuto pagare un prezzo simbolico l'ASLE all'INAIL. Poi pare che non sia stato più così, che i prezzi l'INAIL voleva, i prezzi correnti, i soldi correnti, i mutui altissimi e quindi si è bloccato tutto. Ma noi crediamo che si debba ritornare a ragionare, perché non è che un ente pubblico come l'INAIL che deve fare l'ospedale ha un ente pubblico come l'ASLE. Poi non ci siano i soldi per questa opera, mentre nell'edilizia sanitaria si trovano i soldi. Cioè sulla sanità non si può più giocare, non si può più scherzare, perché le liste d'attesa sono quelle, ormai se uno si fa, si va a fare un'analisi e richiede una prestazione sanitaria visita o quant'altro, i tempi sono quelli biblici. Quindi o ha i soldi per pagare il privato, cioè stanno mandando la sanità pubblica, la stanno facendo una sanità privata. E noi ci siamo accorti nel periodo della pandemia quanto fosse importante la sanità pubblica che ci ha salvato da tutta una cosa, perché il privato praticamente si è tirato di lato e è rimasto tutta la situazione gestionale tutto a chi? Al pubblico. Quindi abbiamo capito quant'era l'importanza della sanità pubblica, per cui bisogna insistere, noi vogliamo che si faccia questo ospedale, perché poi non è che la regione può fare, noi quando chiediamo di fare l'ospedale non ci stanno i soldi, però poi guarda caso il governo, quindi tutti d'accordo, regione e quant'altro, fanno il raddoppio del peschiera. Ma ne parliamo, mi dica una cosa, si fa o non si fa questo ospedale? Le parole dell'altro giorno del Presidente che abbiamo sentito e registrato ci sconcertano, lui ha lasciato intendere che non ci sono i soldi e questa cosa, ma qui tutta la politica reatina, la destra e la sinistra, l'assessore regionale, il deputato nostro che c'è, Trancassini, il sindaco, bisogna fare una notte insieme, perché poi Trancassini vive in una zona dove il sisma, leonista c'è stato, quindi bisogna insistere su questo aspetto, che si devono trovare le risorse per fare l'ospedale e farlo prima possibile. Se l'amministratore, il direttore generale, tanti anni fa aveva capito che l'ospedale aveva acquistato della terra lì adiacente all'ospedale e pensava che dopo tanti anni fosse stato meglio realizzare un nuovo che ristrutturarlo, cioè una mente ben pensante, allora non capisco perché oggi ancora siamo su questi… Siamo andò, ancora siamo andò. Come lì ci sta il parcheggio pure ancora… Parcheggio, parcheggi selvaggi, ci arrivano segnalazioni tutti i giorni e il parcheggio, quello a pagamento nuovo è quasi sempre vuoto, mi pare. Lì per esempio i pullman, noi abbiamo iscritti nostri dell'ASM, tante volte non riescono a girare, hanno difficoltà nel girare, abbiamo fatto segnalazioni ai vigili, al comune, nessuno si interessa, nessuno dice niente, quindi voglio dire, si continua su questa strada. Non bene, non bene. Mi dicevate il raddoppio del peschiera, anche lei è intervenuto, siete intervenuti su questo aspetto. Il raddoppio del peschiera, noi una risorsa vera, l'unica che abbiamo è quella dell'acqua. Allora, dicevo prima il paragone, quando poi si deve depredare il territorio radino, si deve fare una nuova condotta, e l'hanno messo tra le 25 opere strategiche d'Italia per raddoppiare la condotta che dal peschiera porta l'acqua a Roma. Quindi, quando c'è da fare queste neveziatiche, sarà devastante sul nostro territorio, delle cose, allora nessuno dice niente, nessuno parla. Poi quando dobbiamo fare un ospedale nuovo, ci sono dei problemi. Se dobbiamo fare la ferrovia a Rie di Roma, ci sono dei problemi. Se dobbiamo mettere i treni regionali, che ce li avevano promessi, i famosi treni trimodali a Rie di Roma, ancora stiamo a do, promesse... Ci sono problemi anche lì. Promesse, non lo so, l'avevano a Pompamagna presentate che erano arrivati, però sulle rotaglie questi tre non ci stanno, quindi per andare a Roma ci mettiamo sempre tre ore. Quindi quando ci sta da fare queste cose, per penalizzare il reatino, cioè, come quella del Pestiere, si fa subito, senza se e senza ma. Quando ci sta da riconoscere una cosa al reatino, queste cose non si fanno. Allora poi lì la CEA che fa questa opera maestosa, lei lo sa, direttore, per esempio, che noi non siamo allacciati alla sorgente del Peschiera, noi nel reatino, noi siamo allacciati alla sorgente di Vazia. Allora, noi che siamo il reatino non possiamo usufruire del loro blu della nostra acqua. Allora loro se la fanno per Roma, però lei ha sentito qualche politico dire oh, ma scusa, Roma sì, ma mettere un tubicino che c'è quella carriera che sta qui. E soprattutto lasciare qualche cosa qua un po' più... nessuno, nessuno dice queste cose, io non ho capito, ma io insomma ho capito che uno deve rispettare il colonnello il colonnello di... no? Chi è il colonnello? No, il capo, il colonnello... Il capo di tutto. Che è il momento che c'è, no? Quindi però io credo che una battaglia tutti insieme su queste cose il sindacato c'è, no? Perché poi nel reatino, nel reatino, scusa se mi dilungo un po', nel reatino sono stati stanziati 175 milioni di soldi di fondi del PNRR, a Riedi sono stanziati 20 milioni in più rispetto a 155 rivisti. Ma anche lì sono tutti progetti a pioggia, il comune che ieri fa il marciapiede, il comune che ieri fa la piazzetta, il comune che ieri fa la stradina. Ma lì la politica, se fosse stata un po' più lungimirante, avesse pensato un po' più là del naso, praticamente se avesse fatto e realizzato un progetto della ferroviaria di Roma, noi oggi avremmo avuto con quei soldi una grande infrastruttura che c'è con lei, con la capitale del mondo, io andiamo a te, del mondo. La capitale del mondo, c'è una telefonata, siamo in chiusura quasi, stasera qualcuno ci sta vedendo e ha deciso di chiamare. Vediamo un po' chi è. Telefonata, Paolo Lucci. Presidente, che piacere sentirla. No, no, ma io l'ho citata perché, voglio dire, un esponente di rilievo come lei, insomma, è venuto a Riedi e non ci ha invitato. E quindi noi siamo stati, no, siamo stati dispiaciuti di questo effetto perché, innanzitutto, avrebbe fatto il piacere incontrarla e salutarla. Poi, insomma, tutti quei problemini che ci sono ne avremmo voluti parlare con lei. Lui? Sì, il Presidente Rossi. No, no, certo, certo, certo. Va bene, la prossima volta, noi che verrà, noi ci saremo, qualsiasi giorno lei scelga. Bene, nel frattempo gli anticipo gli avvoli di Pasqua, lei è tutta la giunta, Presidente. Anche miei, anche il Direttore la saluta. Anche il Direttore, anche il Direttore. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie, saremo presenti, sì. Beh, anche il Presidente segue questa trasmissione, quindi è importante, è importante, è importante. No, ci segue Rocca, no, no, sono contento che ci abbia chiamato, ma la CISL c'era? No, con lui? No, non c'era nessuno proprio, manco CISL. L'hanno invitato il Sindacato, l'hanno invitato nessuno. Proprio il Sindacato hanno... No, 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 no. Sfanno, come si dice... Sì, sì, fanno da soli loro, altro che pensano da soli. Va bene, allora, restano da soli, basta che fanno le cose fatte bene, poi ce le dicano, vediamo per il bene del reatino. Certamente. Lei ha preso l'impegno di fare questa iniziativa con alcuni amici del Rebbi, quindi a disposizione di queste cose, io sono estremamente contento e complimenti per la trasmissione, quindi è seguita questa trasmissione. Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, condividete questo video, scriveteci, è tutto, quindi noi siamo a vostra disposizione. Vi faccio gli auguri di una buona Pasqua, una serena Pasqua, speriamo che a Pasquetta non piova, come spesso accade a Riedi, perché ci hanno annoverato anche tra l'altro tra i peggiori climi d'Italia, speriamo che non sia così, speriamo di avere un clima buono meteorologico e non solo. Vi preannuncio uno scoop che a breve Riedi Life farà, ci stiamo lavorando da tempo, credo a fine di questa settimana ci sarà uno scoop veramente grosso di cui ne parleranno anche i media nazionali. Un saluto, buona Pasqua ancora, giovedì prossimo. Pasqua ancora, giovedì prossimo. Il sito www.paciauto4.com Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. Invia Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone, I'm the one.